La locanda Tumodoro è una prima locanda medievale risalente all'undicesimo-dolicesimo secolo recentemente ristrutturata con reperti storici visibili. Si può vedere una vecchia anfora, la colonna originale col capitello, la vecchia pavimentazione e l'arco e i muri visibili sono lasciati a vista. Il ristorante è fornito da diverse salette e dalla primavera è aperta la terrazza panoramica con vista sulle montagne circostanti e Castelmonte. Il piatto miteloeuropeo che proponiamo sono gli gnocchi alle prugne.